Questo è un momento importante per tutte le nostre comunità e in particolare del Chivassese. Oggi si inaugura un impianto strategico per quanto riguarda lo smaltimento del percolato che oggi è presente al di sotto della discarica di Chivasso, la seconda più grossa del Piemonte. È un momento importante perché evita il passaggio di automezzi sulle strade provinciali, sulle strade comunali, quindi riduce drasticamente l'inquinamento ma abbatte anche i costi, quindi permette di avere un risparmio notevole per quanto riguarda uno smaltimento necessario e fondamentale proprio per salvaguardare il territorio. Terzo e ultimo aspetto, la nostra comunità ha un impianto finalmente potenziato. La città metropolitana da questo punto di vista ha dato attraverso i procedimenti di autorizzazione ha dato con il suo personale un contributo importante a questo tipo di impianto e quindi siamo qui orgogliosi anche per quella parte autorizzativa e di verifica che città metropolitana ha fatto su questo progetto.